Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'assessore regionale Fernanda Cecchini ha presentato in seconda commissione la strategia energetica ambientale 2014-2020. Il documento per consentire alla Giunta di svolgere gli approfondimenti che sono stati richiesti dai consiglieri verrà votato nella seduta già convocata per lunedì 6 febbraio. La strategia energetica ambientale 2014-2020 che dell'INE riassume azioni e investimenti fatti e da fare per dare un contributo al risparmio energetico in attuazione della strategia Europa 2020-2020 è stata presentata in seconda commissione dall'assessore regionale Fernanda Cecchini. Nel perseguire gli obiettivi europei, ha spiegato Cecchini, l'assessorato ha lavorato all'adeguamento e all'efficientamento energetico per la pubblica illuminazione e per gli edifici pubblici come le scuole. Attraverso il piano di sviluppo rurale sono state stanziate risorse per le produzioni di energie rinnovabili finalizzate al solo risparmio energetico dell'azienda e sul risparmio energetico e sulla qualità dell'aria, ha concluso l'assessore, è stato previsto il catastro unico delle caldaie attive nella regione con cui attuare verifiche sulla regolarità della manutenzione delle emissioni. Questo porterà risparmio energetico con caldaie che funzionano meglio ed inquinano meno. La prima commissione consigliare presieduta da Andrea Smacchi ha approvato a maggioranza la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sull'andamento della gestione finanziaria della regione Umbria nel terzo trimestre 2016. Inoltre la prima commissione ha proseguito l'esame della proposta di legge del Consiglio delle Autonomie Locali per una diversa regolamentazione dei rimborsi delle spese di viaggio. Si è deciso di riconvocare i rappresentanti del Cal per cercare insieme di affrontare il problema e dare dignità e ruolo a questo organismo. Audizione in seconda commissione sul disegno di legge della Giunta concernente la legislazione turistica regionale. Dopo gli eventi sismici espressa la necessità del riconoscimento dei danni indiretti. Le conseguenze degli ultimi eventi sismici sono state catastrofiche per commercio, turismo e servizi. Per questo chiediamo il riconoscimento del danno indiretto come fu predisposto dopo il sisma del 97. Sono necessarie azioni di comunicazione e promozione per ricollocare nuovamente l'Umbria come destinazione turistica, auspicabile la messa a punto di una cabina di regia per gestire la situazione. È quanto emerso in seconda commissione presieduta da Erosbrega dall'audizione di alcune associazioni di categoria e soggetti interessati al disegno di legge della Giunta regionale sulla legislazione turistica regionale. Gli interventi si sono basati quasi esclusivamente sulla difficilissima situazione che stanno vivendo le strutture turistiche regionali, iniziata con il sisma dello scorso 24 agosto di Amatrice e proseguita poi con gli altri eventi sismici di ottobre che hanno interessato direttamente la Valnerina e quindi l'Umbria. La richiesta del riconoscimento dei danni indiretti, rimarcata da tutti gli intervenuti, è stata condivisa dalla stessa commissione con il presidente Brega che in conclusione dell'incontro ha assicurato il massimo sforzo per valutare ed approfondire tutte le proposte emerse. Lo faremo, ha detto, in completa sinergia e collaborazione con la Giunta regionale. Unanime è dunque la convinzione di puntare ad avere una legge speciale per far ripartire l'Umbria dal punto di vista turistico, motore insostituibile dell'economia regionale. La terza commissione consigliare ha approvato il nuovo piano sociale regionale che ora passa al vaglio dell'aula di Palazzo Cesaroni. Con i tre voti favorevoli della maggioranza, Solinas, Chiacchieroni, Rometti e l'astenzione dei tre consiglieri di opposizione, Squarta, De Vincenzi e Carbonari, il nuovo piano sociale regionale è stato approvato dalla commissione presieduta da Tilio Solinas. Al testo, già sottoposto a istruttoria e audizioni, sono stati aggiunti alcuni emendamenti, fra cui quello stilato dai consiglieri di opposizione Squarta e Carbonari e fatto proprio da tutti i membri della stessa, che raccoglie l'esigenza manifestata da famiglie con persone non autosufficienti di poter scegliere se ricorrere ai servizi o incassare un assegno di sollievo per scegliere direttamente le cure per i propri cari. Su questo tema e sulla necessità di monitorare annualmente le azioni previste dal piano regionale integrato per la non autosufficienza, si è registrata piena convergenza di intenti fra giunta e consiglieri. Accolto anche l'emendamento presentato da Carla Cascari sul rafforzamento del welfare di comunità, che deve avvenire attraverso l'implementazione di nuove forme di sostegno all'autonomia delle persone con disabilità con l'avvio di percorsi di istruzione e formazione miranti a certificare competenze acquisite anche non formali, sostenendo la valorizzazione di prodotti derivati da tali attività etiche e sociali. Con un emendamento aggiuntivo del presidente Solinas è stata introdotta anche la figura dell'operatore di quartiere, una figura che agevoli le persone più deboli ad accedere ai servizi di cui hanno bisogno, in coordinamento con i soggetti che già operano nel territorio. È venuto così a delinearsi il nuovo piano sociale che vede protagonisti, zone sociali e persone, mira l'uniformità dei servizi su tutto il territorio e si avvale di cospicui finanziamenti statali, regionali e provenienti dall'Unione Europea. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa, va in onda sulle emittenti televisive di tutta la Regione, è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci. Grazie per la visione.